Vincent Van Gogh Un bambino nella culla se lo si osserva con calma all'infinito degli occhi. Ecco, Van Gogh ci aiuta a spalancarci sull'infinito con la sua penna di fratello, perché scrive tante volte al fratello Theo, ma anche agli altri amici, e col suo pennello di pittore. Uno splendore di colori, un fascino di parole. L'insieme di queste due forme creative ci ricordano che il nostro cuore è fatto per l'infinito, è fatto per la bellezza totale, assoluta. E così in mostra succede che si incontri un uomo nella sua vibrazione drammatica, siamo a fine Ottocento, un uomo che ci costringe ad alzare lo sguardo sulle stelle. Quanto belli i seri stellati di Van Gogh, la notte stellato sul Rodano, che meraviglia, che splendore di colori, che fascino per chi viene lì in mostra, ne fa esperienza. Poi magari va anche un po' in giro per i musei del mondo, ma può bastare anche questa mostra con tutta questa bellezza raccontata ai nostri uomini, così affamati, assetati appunto, di qualcuno che ci aiuta ad alzare la testa e a spalancare il cuore.